Signorina Croft, perdoni il disordine all'ingresso, ma una grossa partita di reliquie è arrivata durante la sua assenza. Come di consueto, avrei riposto tutto nella galleria, ma il sistema d'allarme si è attivato serrando la porta dall'interno. A peggiorare la situazione, i restauratori hanno chiuso la rete idraulica dell'intera residenza per procedere con i lavori nella dépendance della piscina. Unica nota positiva, ho ritrovato il diario scomparso e l'ho riposto nel nascondiglio segreto della sua stanza. Umilmente a sua disposizione, Winston. Mi domando dove porti. Unilmente a sua disposizione. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Cosa ci fa qui? Così si ragiona. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Questa è la prova che il tempo non si ferma mai. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Con questo dovrai essere in grado di raggiungere i posti più ostici. Mi garantirà un viaggio di ritorno più rapido. Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. 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 a tutti.